Nata nel 1994 grazie all'iniziativa di quattro tecnici provenienti dallo stabilimento di Fincantiere di Riva Tregoso, Tecnoriva è una delle aziende del polo tecnologico di Sestri Levante. Si è sviluppata in 21 anni ampliando il mercato e il business e oggi conta clienti in tutto il mondo. Oggi è attiva nell'ingegneria, nella diagnostica e nel service delle turbine a vapore. Siamo una trentina di persone, di cui nuovi ingegneri. L'età media cresce in una società che si occupa di turbine a vapore molto bassa, abbiamo 37 anni come età media e lavoriamo in tutta Italia, in Europa, Nord Africa e nelle Americhe, Stati Uniti, Canada e Argentina. La crisi come lavoro no, abbiamo sempre avuto dei carichi di lavoro e di fatturato in aumento anno per anno. L'abbiamo più che altro per recuperare i crediti, perché le aziende con cui lavoriamo qualche problema ce l'hanno. A noi serviva un posto dove avere gli uffici. A Sestri Levante non esistono strutture dedicate a uffici e ci è stata fatta questa possibilità e siamo venuti. Ovviamente godiamo anche dell'ubicazione. Ovviamente quando i nostri clienti ci vengano a trovare sono meravigliati del posto bellissimo dove noi lavoriamo. Grazie a tutti.